Ciao a tutti, buongiorno a tutti per questa live post-prandiale. Buongiorno a tutti, cari followers, come dice qualcuno, bene, bene. Cari followers, buongiorno a tutti per questa live post-prandiale dove parlerò nuovamente in modo tale da approfondire il tema del linguaggio del corpo. Per approfondire il tema del linguaggio del corpo per capire in modo non verbale, in modo molto Engigiana, sei la prima, bravissima, hai vinto la possibilità di offrirvi una cena, brava Engigiana, immagino che tu sia strafelice di tutto questo, molto piacere Engigiana. Questo qua, questa cosa qui mi fa molto piacere. Quando oro? Che vuol dire quando oro? Boh, non so dove dire quando oro. Bene, il linguaggio del corpo ti dice se ti ha. Ah, vedi, è felice Engigiana, bravissima. Certo che offrire una cena a me sarebbe il massimo della felicità proprio. Stasera, ma sì, viene a Torino, questa sera a Torino avrei questa possibilità se vieni, non so se viene a Torino, insomma. Allora, il corpo ci dice, ci dà molte informazioni. Ci dà molte informazioni ad esempio se una persona ci ama o non ci ama. E' ovvio che dobbiamo fare alcune considerazioni, dobbiamo fare alcuni, diciamo, alcuni test per capire dal suo linguaggio non verbale se c'è un coinvolgimento, se la persona... Oh, Carmen Rocco, ciao Carmen Rocco, ma sei la romana o il limitrofe romano? Perché Carmen Rocco, non lo so. Federica, buonasera, Federica, ciao Federica. Maria Luisa, Baggio Maria Luisa, sempre che sono grande. Ciao, ah, sei Carmen Rocco la romana? Oh, non so di Roma. Evenin, ciao Evenin. Allora, noi possiamo capire dal linguaggio del corpo di un'altra persona se una... Oh, è Alessandra Casara. Ah no, sono di Salerno, quindi è un'altra Carmen. Va bene, no, perché... Niente, allora, niente, niente... Noi possiamo capire un'altra Carmen, insomma, il mondo è pieno di Carmen. Sempre, oh, bravissima Ingegia. Ah, sei tu? Ah, sei venuta da Salerno. Ci siamo viste a Roma, io e te. Fammi capire, solo questo. Per capire se sei quella Carmen lì. Elena Barbierato. Ah, bene, perfetto. Ok, Carmen, grazie mille Carmen. Ok, perfetto. Allora, come possiamo capire dal linguaggio? Ecco, intanto tenere presente che con il linguaggio del corpo dobbiamo tenere presente anche che del linguaggio del corpo fa parte del comportamento. Il comportamento di una persona noi spesso non lo prendiamo tanto in considerazione, ma in realtà è la cosa fondamentale. Che cos'è? Che cosa possiamo capire? Quali sono i comportamenti? Beh, intanto, dai comportamenti di una persona riusciamo a capire quanto una persona ha voglia di fare per noi delle cose che normalmente non farebbe. Ecco, il comportamento, direi che è, come dice giustamente Alessandro, riguardo solo quello, è la cosa fondamentale. Però non è detto che, alle volte bisogna capire se ci sono dei vincoli, degli ostacoli al comportamento di una persona. Non è detto che non ci ami, però bisogna fare un'analisi approfondita. Faccio un esempio pratico. Supponiamo una persona sposata che incontra una persona single, ad esempio. E la persona sposata è disposta, diciamo così, a interagire con la persona single da un punto di vista sentimentale affettivo, però mantenendo, come dire, non risolvendo la sua situazione matrimoniale. Questo è un comportamento che potrebbe indurre nella persona single un allontanamento, ad esempio. Il che non significa che quello single non sia coinvolto, però avviene in alcuni casi un fenomeno che si chiama cortocircuito. Cosa vuol dire il cortocircuito? Vuol dire che, soprattutto, vengono messe da parte, diciamo così, le esigenze emotive, il coinvolgimento, quando si supera una certa soglia di tolleranza. Quindi, non so se mi sono spiegato a sufficienza. Cioè, quindi quella persona sposata potrebbe vedere che il single, diciamo così, non gli dà le attenzioni che lei si aspetta, fondamentalmente, ad esempio. E quindi ritenere dal comportamento del single che non ci sia un coinvolgimento. Però bisogna vedere il vincolo che è stato messo, il vincolo che ha la base. Il vincolo, in questo caso, è un grosso vincolo logico e razionale. Per cui, Deborah, buongiorno Deborah, Deborah la romana, potrebbe ad esempio fuggire per cortocircuito. Maria Paola al gatto per cortocircuito. Quindi, il cortocircuito non significa che la persona non è coinvolta, anzi, paradossalmente potrebbe innamorarsi ancora di più per un meccanismo che si chiama infertizzazione. Cosa vuol dire? Che la comprimere attraverso la logica, diciamo così, un istinto, un coinvolgimento, rafforza il coinvolgimento stesso. Però nel comportamento questo non traspare. Cioè, ecco, questo per dire che il comportamento è sicuramente un qualcosa fondamentale da osservare. Bisogna osservarlo in modo completo, diciamo così, a 360 gradi. Rendersi conto se ci sono dei vincoli sottostante. Un secondo qua. Pronto, non so chi fosse, ma il sottorrompiscatole del Folletto adesso, il sottorrompiscatole del Folletto che... Alessandra Casara, se hai fuggito non ti meritava... Allora, il singolo potrebbe poterne più spazi da uno o una sposata. Eh beh, sì, infatti, bisogna capire... Buongiorno, ciutoro. Bisogna capire le dinamiche che avvengono fondamentalmente. Bisogna capire quali sono le dinamiche di fondo. Cioè, il comportamento è importante, ma se c'è sotto un vincolo sottostante, grande, non è detto che bisogna analizzare solo il comportamento. Cioè, quindi, questo per dire che cosa? Oh, Don Matteo, buongiorno Don Matteo. Per dire che alle volte la persona si trattiene nel comportamento a causa del vincolo che viene messo. Quindi è importante analizzare il comportamento. Ovviamente analizzare il comportamento è fondamentale. Sì, mi sono perso la domanda, Alessandra, perché c'era lì il folletto che suonava. Mi sono perso la domanda. Allora, ma quelli che fuggono per cortocircuito potrebbero ritornare? Beh, sì, potrebbero ritornare. Potrebbero ritornare, sì, potrebbero ritornare. Però è importante capire una cosa. Se una persona ritorna a seguito di un cortocircuito, bisognerebbe diminuire un po' il vincolo. Cioè, in qualche modo ridurre il vincolo. Sì, ritornare può tornare, però, ripeto, se il vincolo resta lo stesso, o acquisisci molto più potenziale o riduci il vincolo. Qui non ci sono vie di mezzo, cioè o si riduce il vincolo o si aumenta il potenziale. Quanta povertà che c'è in giro, ma povertà nel senso di persone che non hanno di che nutrirsi. In questo intendi dire povertà in che senso? Pink Power. Buongiorno. Ciao Elena. Questo concetto, però, è importante, volevo fosse chiaro, perché... Allora, scusate. Io per primo dico, bisogna guardare sempre i comportamenti. Quindi il comportamento è la cosa, come il corpo dice che ti... Ecco, il corpo è anche il comportamento. Caro Don Matteo, quindi stiamo parlando di comportamento, di linguaggio non verbale, anche di linguaggio, diciamo, corporeo in tutti i sensi. E stiamo parlando di comportamento, no? Bisogna guardare il comportamento, tenendo presente che però, alle volte le persone possono trattenersi nel comportamento, o dir tu a cortocircuitare, a seguito di un grosso vincolo. Quindi, che noi mettiamo magari inconsapevolmente. Ah, sì, sì, Alessandro, ok, perfetto. No, volevo, diciamo, mi scordo a Matteo e fa domande così, magari arrivato dopo, stavo facendo un breve rassunto per il nostro reverendo, perché qua ne abbiamo già, insomma, abbiamo bisogno di benedizioni. Quindi oggi, nel venerdì santo, nella presenza di Don Matteo, voglio dire, è... E quindi, cosa vuol dire? Il trattenimento si può manifestare anche nel corpo? Ah, beh, sì, c'è molta povertà, in effetti è vero, condivido, Deborah. E c'è molto poco assistenzialismo, ho lasciato un volontariato, questo è tutto un altro tema da andare a prendere in considerazione, perché il tema è veramente... Perché, diciamo, ci dovrebbe essere molta più solidarietà, ma non solidarietà dal volontariato, solidarietà dalle istituzioni fondamentalmente. Ecco, quindi, comunque, riprendendo questo discorso, noi possiamo renderci conto, diciamo così, che una persona, abbiamo messo un grosso vincolo quando c'è un grosso vincolo logico. Faccio un esempio. Un altro grosso vincolo, il più grande in assoluto, è avere un'altra relazione, poi ce ne possono essere molti altri. Altri vincoli, ma potrebbero essere di qualunque natura, i vincoli. Potrebbe essere un vincolo, diciamo, dovuto al... Potrebbe essere un vincolo dovuto al lavoro, ad esempio, alla distanza. Per dire, relazione a distanza. Relazione a distanza, anche questo è un grosso vincolo che potrebbe frenare il comportamento di una persona, sempre per cortocircuito. Quindi qua, quando c'è un grosso vincolo, bisogna o aumentare il potenziale, o ridurre il vincolo, o trovare una soluzione al vincolo. Quando ci sono... E quindi uno potrebbe interpretare, diciamo così, come un non coinvolgimento, ad esempio, il fatto che la persona magari non manifesta tutto questo trasporto perché non riesce a superare, ad esempio, il vincolo della distanza. Questo è... Ridurre il vincolo, cosa significa? Significa, se il vincolo è logico, trovare una soluzione. Certo che se uno è sposato e vuol tenersi la moglie o il marito, ridurre il vincolo non vuol dire. Però vuol dire, diciamo, magari trovare eventualmente più spazio, eventualmente altre modalità. Insomma, ci sono diversi modi. Dobbiamo tenere presente che spesso, allora, le persone mettono dei vincoli inconsapevolmente, senza manco se ne rendono conto, no? Però noi se mettiamo i vincoli dobbiamo metterli deliberatamente e sapere che vincoli mettiamo. Se li mettiamo inconsapevolmente, il problema è che mettiamo dei vincoli inconsapevolmente e quindi non riusciamo poi a gestire. interpretiamo male il comportamento dell'altra persona, fondamentalmente. Ebbene, le relazioni a distanza, appunto, Elena, certo, le relazioni a distanza sono un grosso vincolo, ovviamente. Mary Mary, ciao Mary Mary, buongiorno Viviana, buongiorno Deborah. Le relazioni a distanza, ad esempio, è un grosso vincolo. Perché poi dipende quanto è sta distanza, diciamo così. Però, comunque, gli ho chiesto i bucani su WhatsApp e ritorno a spiarmi. Fai finta di niente. Tu non devi assolutamente, come dire, dare l'idea. Non devi chiedere niente. Proprio entrare in modalità me ne fotto, quello devi fare ciuto. Ecco, una persona che cortocircuita si può coinvolgere di più. Dipende quanto forte poi è il cortocircuito. Comunque, sì, una persona che cortocircuita si potrebbe coinvolgere di più. Cosa vuol dire si potrebbe coinvolgere di più? Vuol dire che cortocircuitando potrebbe, diciamo, infertizzarsi. Con Amazon il 24 ore arriva, che cosa? Don Matteo potrebbe infertizzarsi, vuol dire aumentare il coinvolgimento. 90 km è una relazione a distanza? Beh, è una relazione a distanza abbastanza ravvicinata, no? 90 km è una distanza breve. Non è che ci vuole molto a percorrere 90 km. Adesso dipende poi dal tipo di strada che uno va a fare. Se sono 90 km di tornanti in montagna, diciamo così, può essere una distanza notevole. Se sono 90 km di distanza in autostrada, vuol dire, non so, un'ora massimo, neanche forse. Quindi è un qualcosa che si possono fare tranquillamente, no? 90 km... esatto, ripeto, se sono 90 km di tornanti in montagna è un pendenza al 20%, che devi fare in prima, magari è una distanza notevole. Ma normalmente 90 km fatti in autostrada non sono un granché, diciamo, no? E quindi un qualcosa di... Intanto mettete un po' di mi piace. Dopo chi mi piace, sulla base di quelle... Eh, 90 km sono un'ora di auto. Beh, un'ora di auto non è una relazione a distanza. Una relazione a distanza sono... Io in Milano e lui in Cina, mi è capitato. Beh, ecco, lui è una a Milano e una in Cina, direi che quello è... Invece può essere una relazione a distanza... Intesa come una relazione a distanza, diciamo così. Relazione a distanza non è soltanto, appunto... Oh, siamo già dentro, eh? Siamo già dentro, dentro le tendenze. Ormai non si fa tempo che inzio la live... Però sempre dietro Peppa Pig. Vabbè, dai, diciamo, vediamo di superarla. Intanto saliamo un po' come numero di mi piace. Beh, farsi cortocircuitare sul senso di colpa è che è una buona strategia. Se la persona ti cortocircuita perché siamo dentro, Don Matteo, siamo dentro. Se una persona ti cortocircuita... Esatto, l'ho infilato nella tendenza. Se una persona ti cortocircuita vivendosi un senso di colpa... Cortocircuitare vuol dire che... Io, ad esempio, sono innamorato di Viviana Mirandola. Adesso lo confessiamo qua pubblicamente. Sono innamorato di Viviana Mirandola. Però Viviana Mirandola abita... Non so dove cavolo abiti tu Viviana Mirandola. Insomma, oppure Viviana Mirandola ha una situazione, diciamo, che non so, ha già un marito, per dire. Facciamo un esempio. Viviana Mirandola ha già un marito. Viviana Mirandola c'è qualcosa, ok? Allora che vuol dire provincia di Mantola? Ma... Ammirandola, ok? Ma se tu viviana Mirandola fossi sposata, ad esempio, o fossi... Abitassi lontano... Insomma, se fosse un motivo logico che ci tiene a distanza, io potrei cortocircuitarti. Cioè, nonostante amo te, sono coinvolto con te, decido che non posso, diciamo, manifestarti quest'amore perché c'è questo vincolo. Tu hai il marito, tu hai, che ne so, il lavoro, il cane, il gatto, non lo so quello che c'hai. La distanza, insomma, hai tutte queste cose qua. E quindi io, invece di manifestarmi e quindi dichiararti, insomma, mi trattengo nel comportamento con te. Cioè, ti vedo una volta ogni tanto, cioè, ci patisco, ma mi trattengo. Non so se... E questo significa cortocircuitare. Hai capito? Cioè, hai capito? Mi sono spiegato? Perché... Io questo qua... Molte persone dicono, hai capito? Anch'io, un tanto lo dico. Ma in realtà bisognerebbe dire, mi sono spiegato. Perché sei una persona... Ecco, infatti, non mi sono spiegato. No, non mi sono spiegato. Porca miseria. Uno crede di riuscire a spiegarsi, e invece no. Riprova a rifare, a fare il concetto. Prova a rispiegare, sperando di... Mi sono capito. Non ho capito. Ah, bene. Ti sei spiegato benissimo. Ci va. Tu ti sei spiegato benissimo. Io non ho capito niente. Cioè, come vuoi dire? L'intervento è perfettamente riuscito. Però il paziente è morto. Allora, cioè, il discorso è... Questa volta sono innamorato di Luisa Polacchini, ad esempio. E Luisa Polacchini abita lontano da me. Lei abita a Ravenna, cioè lontano. È lontano, insomma. Non è che uno può tutte le mattine andare a Ravenna. Abita lontano. Io sono folle, 500 km. Allora, ok, 500 km. Allora, questo trattiene, diciamo... Sei già fatto il calcolo, Luisa? Questo trattiene, impedisce, perché... E fa fallone anche negli esempi. Don Matteo... Don Matteo mi fa morire. Don Matteo, se... Ma io devo... Don Matteo mi fidanzo con te. Voglio fidanzarmi con te, Don Matteo. Non me ne frega niente. Don Matteo, dobbiamo fidanzarci e te, Don Matteo. Perché è troppo forte. Don Matteo fa fallone anche negli esempi. Mi fa morire. Don Matteo, ci dobbiamo fidanzare e te. Io devo... Non posso non frequentarti. Mi dai allegria, Don Matteo. Ti voglio. Devo dichiararmi in questo momento. Mi sono innamorato di Don Matteo. Quindi facciamo l'esempio con Don Matteo. Mi spiace, ma faccio l'esempio con Don Matteo. Mi sono innamorato follemente di Don Matteo, che però è prete ed è pure maschio, diciamo, apparentemente eterosessuale, diciamo così. E allora, che vuol dire? Che io, pur essendo innamorato di Don Matteo, che però è prete ed è eterosessuale, diciamo così, non riesco a... Non manifesta a Don Matteo tutto il mio amore, come vorrei fare, prenderlo, non lo so, portare, andare al mare, nudi, arrotolarci, nudi nella sabbia, insomma. Non manifesto tutta questa cosa verso Don Matteo, possederlo in tutti i modi. Non faccio questo perché c'ho questo vincolo, che lui è prete, eppure eterosessuale, insomma. Che scherz per me ha uccidettare. Mi fa morire. E allora, di allora, cortocircuito, nonostante abbia tutto quest'amore verso Don Matteo, non lo manifesto. E non gli telefono neanche più. Cioè, gli faccio una telefonata ogni tanto, dico, caro Don Matteo, caro Don Matteo, come stai? Anzi, gli parlo nelle live, così, insomma. E lui, che prima, insomma, non riesce a... non si rende conto che... Cioè, se lui deve valutare dal mio comportamento se io sono innamorato o meno, tenderebbe a dire no, questo non è innamorato di me. Tenderebbe a dire che scena orribile. Ah, è bello, io Don Matteo nudi nella sabbia, però lambiti da un mare, dalle onde del mare, dei Caraibi, perché qua ci arrestano per attiosceni in luogo pubblico, il mare dei Caraibi, le onde ci bagnano i nostri corpi nudi, via di Don Matteo che ci ha vinghiati nella sabbia. Va bene, va bene. Stop. Allora, torniamo al discorso di prima. Che schifo, ma no. Quanta poesia. Poi il mare caldo, la luna, la luna rossa, il mare... cose blu. Basta segnali di gradimento. Vabbè, comunque, torniamo alla scena romantica. Hai capito? E quindi io non manifesto... Io non manifesto tutta questa trasporta verso Don Matteo. E invece di fare tutta questa cosa qua, gli mando un messaggino ogni tanto e Don Matteo... Gli dicono, a Don Matteo gli chiedo, ma Massimo, secondo te, è innamorato di te? Don Matteo... Ma Massimo, secondo te, è innamorato di te? E Don Matteo dice, no, ma secondo me no, perché gli manda un messaggino ogni tanto. Io invece avrei tutto questo ardore, tutto questo... Però l'ho cortocircuitato. L'ho cortocircuitato perché la mia parte logica, se hai reso conto che è un prete, che non si è ancora reso conto di essere gay, diciamo così, e quindi, diciamo, e quindi niente da fare, insomma. È chiaro il suo concetto, Viviano, è chiaro il concetto del cortocircuito. Quindi non è irresistibile. Non ci si può basare soltanto sul comportamento di una persona. Cioè, il comportamento è importante, però se noi mettiamo dei vincoli... E Don Matteo mi ha messo un vincolo bello grosso, diciamo... Ha messo un vincolo bello grosso, è anche lo stesso da solo... Don Matteo ha messo un vincolo bello grosso, che è... Che è che cosa? Che vincolo ha messo? Ah, ha vincolo messo che è prete, appunto, e... Venite in live da me. Ah, bene, grazie. Mi ha messo il vincolo che è prete, e che, insomma, deve ancora decidere un attimino il genere sessuale che gli piace, insomma. Quindi questo è il vincolo, no? E Don Matteo ha messo un bel vincolo, e io, quindi, cosa faccio? O riduco il vincolo, o acquisisco più potenziale verso Don Matteo. Se acquisissi più potenziale verso Don Matteo, Don Matteo, ad esempio, se ne fregherebbe del fatto di essere prete, di essere eterosessuale, quello che è, ma non avrebbe problemi a essere lui, a manifestare... E c'è anche un prete vero, perché è un prete finto. Cioè, qua abbiamo solo preti veri. Non interesserebbe il fatto di essere prete, non interesserebbe il fatto di essere eterosessuale, e verrebbe con me ai Caraibi e faremo tutto quello che dobbiamo fare sulla spiaggia caraibica, diciamo così. Oppure, oppure, Don confessaci tutti, oppure abbasso il vincolo. Cioè, in questo caso è lui che dovrebbe abbassare il vincolo. Abbasso il vincolo e quindi abbassare il vincolo vuol dire che capisco questo, accetto... Cioè, lui magari potrebbe spretarsi, per dire, però, ormai il vincolo è un po' difficile, oppure potrebbe... Oppure accetto il vincolo e quindi il resto, però, se accetto il vincolo, resto in una manifestazione, diciamo, più contenuta. Quindi questo è... Quindi, interpretare il comportamento bisogna vedere sempre se c'è un vincolo sottostante. E ovvio che se vincoli sottostanti... Esatto, i vincoli vinculano. Max, ridiamo più spesso... Max, ridiamo più spesso che è mio, do tutto. Non ho capito. Devo dire, vabbè, comunque... E quindi... Ah, che è meglio di tutto ridere. Ah, no, perché non ho capito. Ciao, Domenico Barone! Eccolo qua. Ecco, quindi, il mio amore è per Don Matteo. In questo caso resta bloccato, no? Resta bloccato e resta cortocircuitato. E io amo tanto Don Matteo, ma non manifesto questo mio amore attraverso questo comportamento. E lui... Allora, se lui è consapevole che c'è un vincolo sottostante che mi ha messo lui, allora, eh, lui... Se lui, se Don Matteo volesse il mio amore, volesse che io manifestassi più, come dire, nei suoi confronti, e manifestassi più, come dire, è più un barone che allora... Don Matteo c'è che depistarmi. Oramai mi vuole mandare a Londra. No, ecco, però dico, se Don Matteo volesse ricevere più attenzioni da parte mia comportamentali, potrebbe ridurre il vincolo. Potrebbe ridurre il vincolo e ridurlo come? Beh, ad esempio attraverso un discorso, potrebbe parlarmi e dire ma io sì, sono prete, però questo non influisce il fatto che possa avere delle relazioni, anzi, sto iniziando a capire, mi potrebbe dire Don Matteo, che la vera relazione è quella gay, che perché come ho amato Gesù, diciamo così, posso amare un altro uomo, potrebbe fare tutto un discorso del genere, quindi mi ristruttura cognitivamente, no? Quindi in questo caso, Don Matteo mi sta ristrutturando cognitivamente, mi sta dicendo che nonostante, nonostante, e se dopo vuoi togliere il vincolo e dici che troppo tardi è la verità, ah beh, dipende, se tu, beh, lì dipende, dipende come è andato a finire il cortocircuito, certo che se togli il vincolo due anni dopo, magari questo ha avuto un'altra, altre cose nella vita, è ovvio che il vincolo se toglie dopo. Qui Don Matteo potrebbe dirmi, no? Per abbassare il vincolo, potrebbe dirmi, guarda, io so, come ristrutturazione cognitiva, diciamo, come ristrutturazione, ah beh, se tu lo togli subito e fai veramente un'azione anche, allora, vedi subito se è vero o meno, e questo è interessante, perché Don Matteo potrebbe ristrutturarmi cognitivamente, no? E quindi dirmi, che nonostante lui è prete, nonostante lui credeva di essere otorosessuale, ha scoperto che, insomma, che il vincolo dell'abito talare non è così un vincolo forte, da impedire di avere una relazione, eccetera, eccetera, insomma, potrebbe raccontare tutte queste cose e mi va a ristrutturare da un punto di vista cognitivo, no? Mi va a ristrutturare da un punto di vista cognitivo in che senso? Che io potrei far qualcosa di più verso Don Matteo, potrei manifestare, no? Perché inizio a ragionare, beh, questo comunque è prete, però dice che non ne fiega tanto, che il fatto che è prete o meno, che possiamo comunque avere una storia, il fatto che lui ha capito che forse gli piacciono più gli uomini e gli uomini delle donne e quindi io potrei manifestarmi un po' verso Don Matteo, no? Quindi, anzi, lui dovrebbe verificare che io ho un comportamento più, diciamo, io dovrei manifestarmi un po', cioè dovrei iniziare a dire Don Matteo come stai, guarda, vengo a trovarti questo weekend, vengo lì a trovarti dove sei tu, andiamo in un alberghetto, diciamo così, vicino alla parroca, un po' lontano dalla parrocchia, un alberghetto di osservato, so poter raccontargli un po' di cose di questo genere, e vedere come si comporta Don Matteo. Certo che se Don Matteo ha parole, ristruttura, ma ha detto quello, ma poi ne fatti, mi dice no, io non posso perché qua la gente mormora, le cose gire, non si può fare questo, allora, ecco, quindi è lui che deve battere il vincolo, ovviamente, ok, è lui che deve battere il vincolo, oppure acquisire più potenziale ancora nei miei confronti, in modo tale che nonostante, diciamo, il potenziale che acquisisce, io nonostante lui sia prete, nonostante lui sia coso, io vado e lo vado a cercare, no? Ecco, quindi questa è la dinamica, è la dinamica che si manifesta quando il comportamento è vincolato, insomma, e questo direi che il vincolo è un vincolo bello grosso, no? Il fatto che, insomma, lui è prete, tutto questo, ecco, questo è il meccanismo cortocircuito, quindi, eh, e riservate, no? No, era un esempio, perché poi Don Matteo dice, l'abito tallonare, ok, quindi questo è il meccanismo, no? E noi dobbiamo imparare a gestire, a gestire, quindi, osservare i comportamenti, ma capire anche se c'è un vincolo sottostante, se c'è un vincolo sottostante, è proprio l'uccello di rovo, se ti trovo ti provo, e questo non dobbiamo negarlo, se c'è un live fantasy, se c'è un vincolo sottostante, il comportamento può essere ridotto, ma noi possiamo accorgerci di questo abbassando un po' il vincolo, se siamo noi che mettiamo il vincolo, quindi Alessandra, per rispondere a Alessandra, vedi un attimino, modificando tu il vincolo, che cosa ottieni da parte dell'altra persona, soprattutto sia da un punto di vista cognitivo, puoi abbassare e vedere, tu dovresti abbassare il vincolo da un punto di vista cognitivo, cioè a parole, di fatto, vedere cosa fa l'altra persona, perché, ecco, una cosa interessante, ma questo è veramente interessante, che può servire Alessandra, può servire anche a Don Matteo, eccetera, supponiamo che Don Matteo mi abbatta subito il vincolo completamente, mi abbatte il vincolo completamente, se non ha fatto delle verifiche e non me l'ha battuta a parole, potrebbe lui, Don Matteo, prenderselo completamente a secco, diciamo così, perché? Perché supponiamo che Don Matteo mi abbatte subito il vincolo e mi dice, guarda, ho incontrato te e mi sono innamorato follemente e ho deciso di lasciare l'abito talare, eh sì, non ho capito, Ange, ti spiego, allora, prima di abbattere, no vabbè, per dire, prima di abbattere il vincolo, cioè di Don Matteo, nei fatti, devo abbattere la parola, per vedere il mio comportamento, altrimenti potrebbe rischiare di, perché Don Matteo, io, allora, io non ho mai manifestato nel suo, nei confronti di Don Matteo tutto questo trasporto, lì sì, gli mandavi messaggini, ciao Don Matteo, che belli occhi che hai, ciao Don Matteo, che belle mani che hai, insomma, gli mandavo tutti questi, gli mandavo tutti questi input, diciamo così, a Don Matteo, ma non gli ho, non ho mai fatto chissà che cosa, cioè non ho mai fatto un'atto eclatante, diciamo, nei confronti di Don Matteo, semplicemente manifestavo delle esigenze in questo modo, eccetera, eccetera, Don Matteo dice, no, cavolo, secondo me fa così, perché io gli ho messo il vincolo del fatto che sono prete, del fatto che forse sono un po' eterosessuale, un po' no, insomma, allora, Don Matteo, ma sono sicuro che Massimo mi ama, pensa Don Matteo, e allora, che fa? Abbatte completamente il vincolo, di brutto lui, dice, guarda Massimo, va domani mattina, va dal vescovo, e dice, boh, abito talare, basta, va dal vescovo, gli consegna, diciamo, la tonaca e il tesserino, com'era, Perché la polizia consegna una pistola e tesserino, e invece Don Matteo consegna la tonaca e il tesserino al vescovo, no, non è il poliziotto che non fa più poliziotto, arriva là con, no, nei film americani, consegna pistola e tesserino, cioè, me ne vado via, e lui consegna abito talare e tesserino da prete, e basta, e non è più prete, e poi, e quindi, mi abbatte completamente il vincolo, e rischia, però, Don Matteo, in questo caso, perché io, pure l'appartamento con la perpetua, lascia tutto, insomma, rischia, rischia che io, in realtà, cioè, non ero davvero interessato verso Don Matteo, non ero davvero interessato verso Don Matteo, e gli dico, guarda, Don Matteo, sai che c'è? a me non è che mi interessi poi più di tanto, se vuoi, nas del tino ogni tanto, e basta, non è che voglio venire a vivere con te, avere tutta sta relazione, eccetera, eccetera, c'è ancora Don Matteo, Don Matteo, secondo me, Don Matteo è chiuso in casa, si è chiuso in casa, doppia mandata, e quando esce, e quando esce, si guarda sempre in giro, dopo questa dichiarazione, Don Matteo è nascosto in casa, starà sei mesi senza uscire di casa, sei mesi senza uscire, non uscirà più di casa Don Matteo, ogni volta che suonano, guarda lo spioncino, con la cintura di Castitaish, è sparito Don Matteo, siamo in tendenza, sì, siamo in tendenza, secondo me, prima eravamo in tendenza, no, però Peppa Piglia è ancora più maiale, di noi, perché è sempre davanti Peppa Pig, non c'è niente da fare, comunque stavo dicendo, e quindi è tornato Don Matteo, no, ah è in Liguria, non vado più di sicuro, Don Matteo ormai, ecco quindi stavo dicendo, stavo dicendo, no, e quindi, che succede, e quindi, succede che, appunto, lui mi ha battuto il vincolo, e io non ho, non ho fatto niente, no, è come quella che dice, adesso tornando un esempio, diciamo, un po' più etero, visto che siamo in tendenza, quella che lascia il marito, per mettersi con l'amante, perché crede che l'amante, non, per dire, non, non sia disponibile, nei suoi confronti, perché c'è un marito, lei lascia il marito, e l'amante, praticamente, continua a non, a non, a non darle di più di quello che le dava prima, fondamentalmente, è, è chiaro, no, il discorso, quindi, quindi, che cosa significa questo? Significa che, consegna a Tonacch e Rosario, esatto, Tonacch e Rosario, Tonacch e Rosario, mi pianoo a Tonacch e Tesserino, è vero, Tonacch e Rosario, no, ma è tornato, Don Matteo ha dato uno sprazzo, ecco, quindi, che noi prima dobbiamo abbattere il vincolo a parole, e vede, cioè, a parole, Don Matteo dovrebbe dirmi, guarda, Massimo, ho pensato che tu sei veramente l'uomo giusto per me, ho pensato che sei veramente l'uomo giusto per me, e quindi, pensavo di andare a togliere, diciamo così, a consegnare la Tonacch e il Rosario al Vescovo, perché non ho più, voglia di seguire questo percorso, oppure, non so, potrebbe dire, anzi no, resterò e farò una battaglia, affinché i preti, per il matrimonio gay dei preti, ad esempio, potrebbe essere una battaglia, no, cioè, il matrimonio gay dei preti, e non quello etero, perché quindi, così ci, evitiamo, diciamo, la riportazione, eccetera, eccetera, ecco, se a queste parole, diciamo così, io inizio a toccare il naso, mentre sento che Don Matteo mi dice, consegno Tonacch e il Rosario, io raschio, mi tocco il naso, vado indietro, e vuol dire che, sta Tonacch e il Rosario, è meglio che se la tenga, perché, diciamo, qualcun altro che gli dà, da mangiare, senza fare una mazza, dire, come fa la chiesa, non lo trova, insomma, e quindi, life trash, e quindi non, non ci sono altre possibilità, di fondo, no, quindi, Don Matteo in questo caso, deve, rassegnarsi, no, deve rassegnarsi, può essere una storia, per carità, può essere una storia, molto bella, quella, quella con Don Matteo, può essere una storia, molto bella, e questo mi fa, mi fa ben sperare, fondamentalmente, no, sono gli occhiali, lì poi il suo corpo ti ama, gli viene, e quindi, dicevamo, e quindi, e questo è importante, invece, se non ci sono vincoli, se non ci sono vincoli, dobbiamo, come dire, osservare molto di più il comportamento, per dire, due persone single, libere, completamente, che non hanno, che stanno pure vicine, dico, non è che magari stanno, uno sotto, sono vicini di casa, per dire, non sono vicini, stessa città, stessa cosa, se uno, non manifesta, non si manifesta subito, è perché, comunque, il coinvolgimento non c'è, nonostante quello che dice a parole, Angelica, vedi che, Don Matteo, vedi che, tutto si rivolge, vedi, Angelica adesso si offre, si offre, come a te, come, vedi, come vestale, per farti, vedi, che, ti ho pure favorito il rapporto con Angelica, hai visto, Don Matteo, tu, non prendi, vedi te, tu, dobbiamo frequentarci più spesso, Don Matteo, diciamo la verità, dobbiamo frequentarci più spesso, perché ti offro possibilità, vedi che, adesso Angelica, si sente in dovere, di verificare la tua eterosessualità, e quindi, diventerà lei, che giudicherà, insomma, se si manifesta a tratti, se non ci sono, se non ci sono, vincoli, diciamo così, se non ci sono vincoli, e se uno ha un tassegno di rifiuto, prima di decidere, come fare a ristrutturare? Eh, se uno ha un tassegno di rifiuto, prima di decidere, vuol dire che deve aumentare il potenziale, ristrutturare, cioè, più che ristrutturare, deve capire, e devi iniziare a dare stimoli, aumentando il potenziale, provando, ad esempio, con l'abbandono, provando a far vivere i sensi di colpa, e vuol dire che il potenziale, che tu credevi di avere, in realtà, trans al sondaggio, in realtà, non ce l'avevi, e questo è importante, però, capirlo, quindi devi, come dire, ripartire con il loop del coinvolgimento, non c'è altro, altro modo. avevo votato trans, ma Angelica, non è mica un trans, Angelica, no, Angelica, sei un uomo, no, non vorrei poi mai che si offendesse, OTB, cosa vuol dire, OTB, OTB, Massimo, in questi giorni, dovrei vedermi, con la mia ex per un caffè, mi ha lasciato un mese fa, dove ho più di 20 contramessaggi, devi notare, devi mandare degli stimoli verbali, stimoli verbali, nel senso parlare di, parlare di situazioni, diciamo, che in qualche modo possono toccare voi, e non so, butti lì delle frasi del tipo, che diciamo, mi piacerebbe vedere un attimino come sono state le cose, insomma, come sono andate le cose, per vedere, butti lì qualche frase un po' ambigua, che ne so, due amici si sono rimessi assieme, qualcosa di genere, sto rispondendo a OTB, sto rispondendo a OTB, ciao, grazie, ciuto, sto rispondendo a OTB, e tu mandi dei segni del genere, noti come cosa fa l'altro di rimando, se l'altro di rimando raschia, o va indietro, o si gratta, vuol dire che non hai potenziale, quindi devi stare sulle tue, non hai ancora potenziale per acquisire, diciamo, per acquisire la cisistica, senza, diciamo, e non hai ancora potenziale, quindi devi trattarla come trattressi un'amica, intanto parti sempre da trattarla come trattressi un'amica, se invece, noti che, ha dei segni di gradimento, guardandoti, si tocca le labbra, vieni in avanti, insomma, fa movimenti di questo genere, allora significa che, diciamo, tu stai acquisendo potenziale, forse, è da valutare il fatto che lei sta valutando, che lei sta pensando a un ritorno, quindi puoi utilizzare, diciamo, questo sistema, ecco, quindi questo è, è una cosa, significa che ha sete max? Beh, significa che ha sete, se tu, dipende, se avviene sincronica risposta, non è che questo gesto qua, non fa soltanto uno se ha sete, e poi se una persona ha sete, normalmente lo dichiara, ovviamente, un, 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 verbale, può essere interpretato in modo diverso, può avere anche un significato logico, cioè, se io mi avvicino, perché devo prendere una cosa, c'è un significato logico, no? Però noi dobbiamo tenere presente la risposta sincronica, sta rinnovando al rossetto, giusto? La risposta sincronica rispetto allo stimolo, certo che se io do lo stimolo adesso, e la risposta avviene un quarto d'ora dopo, non c'è più correlazione, causa-effetto, e diciamo che la risposta sincronica vuol dire, vuol dire, a distanza di un minuto, un secondo, scusate, non un minuto, un secondo, entro tre secondi comunque avviene comunque la risposta, una vestale in vestaglia, ecco quindi che, ecco quindi questo è il concetto di fondo, quindi i vincoli vanno calibrati in questo modo, dopo un tu giorni mi ha riscritta, mi ha riscritta, con buona domenica delle palme, che vuole da me, eh, ma non so tutto il resto della storia però, un linguino sincronico, sembri fassone, che è fassone, desiderio di morboso possesso, la step step, desiderio di morboso possesso, allora, c'è traffico? No, non credo che sia traffico, bene, quindi questo è quanto, Ornella Floris, è scritto per riagganciarti, ovviamente se uno ti scrive è sempre un indicatore, un'indicazione di interesse, se una persona ti scrive è sempre un indicatore di interesse, questo dobbiamo tenerlo presente, ma le scenate di gelosia sono un indicatore di interesse, ma se sono fatte, dipende come sono fatte, la gelosia comunque è sempre un veleno mentale, è sempre un attaccamento, quindi da un lato sicuramente è un indicatore di interesse, dall'altro lato la scenata di gelosia però manifesta che è una persona che è diffidente nei tuoi confronti, che non ti dà fiducia ad esempio, quindi come dire, la scenata di gelosia io la vedrei più come un qualcosa di negativo, le scemate diciamo, la vedrei più come un qualcosa di negativo, a meno che tu non dai proprio diciamo modo, perché è ovvio che la scenata di gelosia se diciamo che ne so, lui ti ha visto che tu eri infrattata con un altro o che facevi qualcosa, magari avevi qualcosa con un altro, allora è una scenata di gelosia che ha un supporto logico e razionale, per cui ci sta, potrebbe starci, però vuol dire che allora tu non hai dato fiducia a questa persona, una scenata di gelosia senza nessun, come dire, supporto logico, senza nessun supporto logico, cosa vuol dire, senza che l'altra persona diciamo abbia un motivo, allora indica semplicemente che è una persona che nei tuoi confronti ha, diciamo, possessività, perché la gelosia poi alla fine indica sempre possessività, e questo non è molto positivo, insomma, cioè avere a che fare con una persona gelosa non è molto positivo, insomma. Bene. Per partecipare alla chat al vivo qualcuno mi scrive, per partecipare alla chat al vivo basta iscriversi al canale e iscrivervi nella chat, basta essere iscritti al canale e iscrivervi nella chat. Bene. Detto questo, saluto tutti, e vi ricordo questa sera, legge attrazione a Torino, che vuole partecipare, ora 20.45 Torino, costa 30.13, riferimento sempre al 333 15 11 703, vi aspetto stasera a Torino. Un abbraccio, un saluto a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, buon pomeriggio a tutti dai grigioni Svizzera. Bene. Un saluto a tutti gli Svizzeri. Benissimo. Quindi un saluto a tutti. Ciao Alessandra, ciao a tutte le persone che si collegano, che sono collegate. Grazie a tutti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, chi segue si iscrive al canale, non fate i tirchi, cliccate su iscriviti al canale. Ci si vede a Torino. Ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.